Lara, stai bene? Oh, grazie a Dio! Anna, cosa? Che ci fai tu qui? Non lo so, non me lo ricordo. Che succede, Lara? Ho paura! Mi dispiace davvero. Non pensavo se la prendessero con te. È colpa mia. Chi? Chi sarebbero? Che cosa vogliono da te? La stessa cosa che voleva mio padre. Oh no, Lara, ti avevo detto di non farlo! Qualunque cosa cerchi, non dagliela! Non è così semplice. Resisti, ti tirerò fuori da qui. In qualche modo... Non toccarla! Ti tirerò fuori da qui. Ti prego, no! Parla! No! No, passando! Dove è la sorgente divina? Ti prego! Fermati, non so dove sia! Basta così. Lei non sa niente. Ma che... Tu... No! Stai con loro! Non ci posso più. Tu... Brutta strutta! Non potevi arrenderti. Non è vero? Sapevo che saresti riuscita ad arrivare fin qui. Che cosa ti aspettavi? Non deve finire così. Cerchiamo la stessa cosa. Ci serve qualcuno come te? Vuoi dare un senso alla tua vita? Noi possiamo dartelo. Non direi sul serio. Ho visto il modo in cui agisce la Trinità! Lo prendo come un no? Prendilo come un vaffanculo! Dimmi, Ana. La Trinità ti ha reclutato prima o dopo che hai iniziato a fotterti mio padre? Amavo, Richard. Ma l'idealismo lo aveva accicato. E l'ha distrutto. Che vorresti fare con il manufatto? Mostrarlo al mondo? Salvare la reputazione di tuo padre? Sei incredibilmente ingenua. Una ragazzina impaurita che cerca di imitare il suo paparino. Basta così. No. Non ancora. Tu e io... Possiamo ancora stare dalla stessa parte. Pensaci, Lara. Oh... Non. 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 Non finisce qui. Bazzardo! Forse non gli hanno insegnato le buone maniere. Credevo di essere sola. Lo credevo anch'io, ma... Come vedi? E come si chiama la mia nuova compagna di cella? Lascia stare, non resterò a lungo. Constantine non ha molta pazienza. Nemmeno io. Questo lo vedo. Complimenti. Puoi tirarci fuori da qui? Tu non sei incluso. Non so neanche chi sei, né perché sei qui. Scusa. Ma al momento sono a corto di fiducia nel prossimo. Non farai molta strada senza di me. Non hai idea di quanta nebbia già fatta. C'è un'uscita? No, ma ho trovato qualcosa che può essere utile. Aspettata. Fammi uscire. Posso aiutarti? Non mi posso fidare. Forse non siamo nemici. Me lo sento. E credo lo sappi anche tu. Lavoro meglio da sola. Conosco la zona. So come muovermi. Io imparo in fretta. Non lo metto in dubbio. Ma forse ho qualcosa di più prezioso da offrire. So cosa state cercando. Grazie. Sono Jacob. Lara. Prendi questa. Nel caso ci dividessimo. Una lezione di storia. Questo luogo ha molte cicatrici. Era un campo di lavoro. I sovietici ci spedivano i prigionieri a lavorare nelle miniere. Ma non gli bastava. Catturavano la nostra gente. Portavano via i bambini alle loro madri e li facevano lavorare come schiavi. Non stavano estraendo minerali. Sembra più uno scavo. È probabile. Scavavano ovunque e fiutassero qualcosa di prezioso. Qui. Sono antichi. Cosa hanno trovato? Dovresti chiederlo a loro. Dobbiamo andarcene. Qui non è sicuro. Arrerezestate. Me ne occorre via. Nemico avvistato. La croft è da sotto. Muoversi, e in fretta. Perché ci hai messo tanto? Ho temuto il peggio per te. Non stavolta. Grazie per avermi fatto uscire. Muoviamoci! Possiamo passare da là! Distinzione! No! 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 No!